Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Nikita, Antonella, Donna Maria e Sara? Concorrenti nominati on dopo giovedì 2 marzo 2023. Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello VIP? Il reality, che da metà settembre continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, sta per giungere al capolinea. E manca davvero poco, anche se sembrava così lontana, la fine della trasmissione. Momento nel quale verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia. Al timone, come sempre, Alfonso Signorini, tra storie d'amore che nascono, gelosie, confronti accesi, e scontri. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 2 marzo? Chi dei concorrenti ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia? Dopo l'eliminazione di Antonino Spinalbese e Nicole Murgia, che è stata protagonista della puntata di lunedì. Ben 5 concorrenti sono finiti al televoto. E a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Nikita Pelezon. Che resta molto amata fuori dalla casa, di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria. Che fino a poco fa formavano una coppia, tra non poche polemiche, di Sara Altobello. Che ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e di Edoardo Tavassi, che nel gioco ha conosciuto e si è innamorato di Micolin Corvaia. Chi di loro ha dovuto lasciare il gioco? Ora che la fine di aprile si avvicina, e il traguardo non è così lontano, probabile anche che Signorini apra un televoto flash tra gli ex fidanzati, chi tra Matteo. Martina Ivana diventerà a tutti gli effetti concorrenti di questa edizione del GF VIP. Amore e polemiche. Questi due ingredienti principali del reality. Alfonso Signorini ha dato spazio alle coppie. A quella formata da Antonella e di Edoardo, e a quella che vede protagonisti Oriana e Daniele. Ma gli scontri e le discussioni non sono certo mancati. Così come non sono mancate le nomination, non esiste puntata del GF VIP senza televoto. Chi dei concorrenti è finito in nomination? E chi, invece, è stato salvato da coinquilini e opinionisti in studio? Grazie. 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 Grazie.